Emilgeno Taccari-Mirelli da Sorbona scrive Caro dottore, le scrivo sotto ingenzione della mia mamma tonnella L'altro ieri un mio amichetto, tale Florino Sgussini, mi ha pronunciato a vociata queste parole Via Francesco Barbini 1A E io dalla mattina seguente sono costantemente vittima di eritemi e arrossamenti Anche alla sezione albuginia del torso carpale Come dovrei comportarmi? Le pomate alla calendula omiopatica della Loacker Staywell Che mi applica tutte le note mia mamma Non stanno funzionando Caro Emilgeno si tratta della scarlattina ciottolina di Steve Rosenbrick Una piccola infezione virale punzecchiante Che colpisce individui infantili al di sopra del ventinovesimo grado Di latitudine nord e al di sotto dei cinque anni Secondo la lettatura cambriana rinascimentale La lettera di un indirizzo innesca una reazione del sistema simpatico attraverso tundimenti ganglici periferici Nella fattispecie indirizzi generici numerati hanno l'effetto di liberare tossine metatarsiche Che in risposta a colpi di tosse si effondono in condensamenti cutanei Dando origine a deritemi L'infezione si risolve da sola in 15-16 anni Non è necessario un intervento terapeutico E mi rispetti dottor Oldegard L'infezione si risolve da sola in 15-16 anni